E niente, sai quel brano di Lady Gaga? Quello del film, bello che lei va sul palco, lei va al pianoforte così che si è tutta emozionata, che è Always Remember This Way, che avevamo visto, erano semplici gli accordi, quella che è la minore, proviamo, vediamo com'è. Grazie a tutti per aver guardato, 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 Grazie a tutti per aver guardato,